Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me Buongiorno al latte dal caffè Buongiorno a chi con c'è E al mio amore buongiorno per dirmi che lei Che per prima al mattino vede il mio correi E' un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te Buongiorno amici di Rossini TV, ben ritrovati Siamo in diretta come tutte le mattine Negli studi di Via degli Abiti 94 Studi che in questi giorni, in queste vacanze avete conosciuto molto bene Perché tanti di voi sono venuti a prendere gratuitamente il calendario dedicato a Pesaro Sponsorizzato da Midor Questo bellissimo calendario che trovate sia da muro che da tavolo E che ancora ce ne sono rimaste poche copie Ma ce ne sono Quindi vi invitiamo a venire qui da noi a chiedere la vostra coppia omaggio Ed è anche un modo per conoscerci Allora oggi è giovedì 11 gennaio Parleremo insomma di tante notizie soprattutto anche relative allo sport Ma anche relative alla sede della provincia di Pesaro e Urbino Ma è anche una giornata piuttosto fredda Allora andiamo a vedere subito il meteo perché Nelle prime ore della giornata insomma le temperature si stanno notevolmente abbassando Due sono i gradi percepiti questa mattina Che non si alzeranno tanto nel resto della giornata Perché rimarremo su queste temperature Anzi andranno anche a scendere nell'arco della giornata Quindi copritevi bene perché insomma le temperature sono proprio decisamente invernali E allora dove siamo qui? Siamo in Afano In piazza 20 Settembre Dove stanno togliendo praticamente l'albero di Natale A quanto pare Vedo quegli operai al lavoro C'è molto vento Poi tra l'altro si vede anche dalla tenda E chiaramente adesso c'è la fase Del togliere tutti gli addobbi che ci sono nelle nostre città E che ci sono anche nelle nostre case A proposito avete già tolto gli addobbi albero di Natale Presepe da casa vostra Sono sempre quelle cose un po' più rognose tra virgolette da fare Che non ci piace mai fare dopo le festività E che però invece dobbiamo procedere Per ripristinare un po' i nostri appartamenti e anche le nostre città Allora Entrambe i quotidiani oggi Dedicano la fotonotizia a questo nuovo acquisto in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro La VL infatti ha scelto Sacchetti Lo vedete qui È stato esonerato Buscaglia E l'esordio ci sarà domenica a Napoli In questa partita fuori casa Insomma una partita cruciale Poi dopo questa partita fuori casa Ci saranno per due weekend Partite in casa alla Vitrifrigo Arena Restiamo sul Corriere Adriatico Giù le mani dalla provincia Anche noi ieri abbiamo fatto questa intervista L'avete vista nel telegiornale A Peppino Paolini Presidente appunto della provincia Il presidente si scaglia contro chi vuole approfittare Della vendita del complesso Per fini elettorali Le trattative sono davvero avanzate Per acquistare l'ex Banca Italia Come futura sede Si cerca di trovare l'accordo Entro il 15 Quindi veramente In brevissimo tempo Si saprà la decisione Poi al San Domenico Ambulanti ai Saluti Ma ritorneremo Come sapete Poi il benzinaio ha aggredito Tre anni e sei mesi A rapinatore Sedicenne Siamo sempre a Pesaro A Petriano Riceci Un accordo con l'azienda Aurora Ricorso Altar Ritirato Allarme a Fano Non rientra per la cena Allarme per una quindicenne Che è stata rintracciata Fano dai carabinieri Ieri alle 13 Nella notte passata Canavaccio I genitori Chiaramente erano In forte ansia Perché non vedevano più La ragazzina Tornare a casa E anche qui la fotonotizia Nel resto del carrino È dedicata proprio Nella parte sinistra Alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Con Romeo Sacchetti 70 anni Che è stato il CT Della Nazionale Fino al 2022 Quindi un ottimo acquisto E invece nella parte destra Stiamo parlando Della Vis Pesaro Perché ha portato avanti Un altro ottimo acquisto Quello di Joel Obby 33 anni E tanta esperienza Anche in Serie A Quindi potrebbe Risollevare le sorti Di una squadra pesarese Che come abbiamo visto ieri Porta a casa Sempre pareggi Sacchetti e Obby Speranze Biancorossi E poi invece In apertura Tre anni Il rapinatore ragazzino Coltello in mano Aggredì un benzinaio A cattabrighe Per 500 euro In passato Aveva Già avuto altri guai Quindi anche qui È ripresa la notizia Della sentenza Per questo Giovanissimo Veramente 15-16 anni Aveva Quando ha commesso Tutto ciò E poi andiamo Anche a Fermignano Perché L'uomo è accusato Di tentato omicidio L'uomo che investì Vi ricordate Prese a martellate Questo Ragazzo Che Appunto Era poi tutto Sfigurato Al volto Insomma Ve la ricorderemo Questa storia Ebbene Babbini Ora è davanti al giudice E dice Non volevo uccidere Bastianelli Perché ora È accusato Di tentato omicidio A Fano Ha presentato a Roma Il Carnevale Un'edizione che arriverà Velocissimamente Perché Appunto Verso i primi di febbraio Ci saranno subito Le giornate Dedicate al Carnevale Quest'anno Si andrà a toccare I temi Dell'intelligenza artificiale Fino al Brudette Che è appunto Il brudetto Fanese Nel Carnevale E poi Politica e giustizia Abuso d'ufficio Cancellato Ricci giusto Ma il PD Si divide Anche qui Provincia Pronta l'offerta Per Banca Italia Caccia la nuova sede Lunedì Ci sarà l'incontro L'ente Mette sul tavolo Due milioni e mezzo E poi Una bella storia Quando diciamo I nostri bellissimi borghi Il nostro bellissimo Entroterra Si va a spopolare Qui invece abbiamo oggi Il racconto A Borgo Pace Di questa giovane Imprenditrice Che decide Di aprire La sua parruccheria Proprio In questo piccolo Comune Andiamo a salutare Tutti gli amici Che sono collegati Buongiorno A tutti voi Che ci scrivete Ci date il buongiorno Commentate Come sempre Le notizie Che volete commentare Fate le vostre osservazioni Non ci offendiamo Assolutamente Anzi Le critiche Ci piacciono Moltissimo Quindi Scriveteci pure Io vi leggo Anzi Vi ringrazio Ed ora Andiamo Alla città Che cambia Perché stiamo parlando Degli interquartieri Siamo all'ultimo atto Lavori finiti Entro la fine di marzo E poi si passerà Santa Veneranda Ieri è stato intervistato Massimiliano Amadori Capo di gabinetto Del sindaco Che garantisce Siamo in linea Col cronoprogramma Un residente però dice La mia casa È Nel cantiere Però questa è La situazione Che state vedendo Questi giorni Nella zona di Muraglia E allora Marzo Si aprirà L'ultima parte Degli interquartieri I lavori si stanno Avviando Alla conclusione Non tutti Sono contenti Certo Ci scrive anche Questo lettore Vi segnalo I lavori In strada Pantano Castagni Risiedo In una Delle abitazioni A cui è stata Spropriata Una parte Consistente Di giardino Per costruire La nuova Circonvalazione Di Muraglia Vorrei portare L'attenzione La totale Disorganizzazione Mancanza di buonsenso Sia da parte Delle istituzioni Che da parte Di società Autostrade Allora Come risponde Appunto Massimiliano Amadori A questa denuncia Di questo Appunto Residente Non conosco Il caso specifico Ma posso assicurare Al vostro lettore Nonché residente Nella zona interessata Che il cronoprogramma È perfettamente Rispettato Con l'impegno Di almeno 40 operai Suddivisi Nei vari punti Dove vanno Fatti gli interventi Per l'allestimento E messi a punto Della strada E poi Andiamo a vedere Attenzione Via Carloni Chiusa fino al 29 febbraio Per lavorare in sicurezza Siamo sempre in zona muraglia È chiusa da giorni E lo sarà fino appunto Al 29 febbraio Ricordatevi È l'unico modo Che c'è Per andare Veloci Con i lavori E farli In tutta sicurezza Dice anche in questo caso Massimiliano Amadori Allora voglio andare subito A leggere Intanto Andrea Boccanera Che ci scrive Grazie di tutto Emi Servizio di Rossini TV Al top delle visualizzazioni Grazie di cuore Quasi 20.000 Ecco Come sapete Rossini TV È una TV Che è anche Sul web Siamo anche Digitali E social E quindi Tutto quello che facciamo Poi lo riportiamo I nostri servizi Nei nostri social network Che sono sempre Tanto molto condivisi Molto visti E questo ci fa molto piacere Grazie Mili Andrea Ci fa piacere E Stefano invece Buongiorno Con un po' di malinconia Smontati gli addobbi natalizi Io ancora non l'ho fatto Devo ammettere Ancora c'è l'albero E il presepe a casa Ma questo fine settimana Lo farò anch'io Grazie Stefano È vero C'è sempre un po' di malinconia Come quando finisce l'estate Cambiamo argomento Perché stiamo parlando Della sede Della provincia Di Pesaro Urbino Provincia Cerca quindi Una nuova sede E La scelta Più giusta Sarebbe Quella Dell'ex Stabile Di Banch'Italia Intanto La soprintendenza Ha deciso Che lo stabile Di via Gramsci Non si può abbattere Ma solo ristrutturare E anche tutto il parcheggio Ha un vincolo archeologico I vecchi stabili Andranno Per il liceo Mamiani E allora La soprintendenza Cosa c'è da sapere Ha posto il vincolo Di questo stabile Appunto Che non si può abbattere Ma solo ristrutturare Conto alla rovescia Per trasferire La sede All'ex Banca d'Italia In via Rossini È stato infatti Fissato per lunedì L'incontro Tra i vertici Della provincia E quelli Della banca nazionale Sul piatto Ci sono 2,5 milioni Di euro Anche se la richiesta È di 2,8 milioni Gli stabili vecchi Di via Gramsci Verranno dati Aliceo Mamiani Che ha carenza di aule Infatti è molto comodo Perché si trova proprio Vicinissimo Aliceo Mamiani Quindi sarebbe davvero Un'ottima scelta La polemica però Che ci fa presente Peppino Paolini È questa Questa operazione Non diventi uno strumento Di campagna elettorale Ora insomma Sapete Stiamo scaltando i motori Via via Si snoccioleranno Tutti i nomi Anche dei possibili candidati Insomma Nei prossimi mesi Si parlerà tanto Di politica E quindi In questa operazione Peppino Paolini Dice La politica Non ci deve entrare Ed ora Andiamo ai fatti Di cronaca In questo caso Parliamo di questo Sedicenne Quindi veramente Giovanissimo Che è stato condannato Per rapina Coltello in mano Aggredì un benzinaio Il colpo avvenne Nel luglio scorso A Cattabrighe Qui ci sono delle immagini Il minorenne Arrivò insieme Ad un complice Con uno scooter Riuscirono a fare Razzia di 500 euro E finirono Al fianco E ferirono Al fianco Il gestore Della pompa Di benzina Questo gestore Ebbe una prognosi Di sette giorni E quindi Il protagonista Questo ragazzino Poi era già noto Per avere fatto parte Della baby gang In piazza Redi Fin dall'età Di 13 anni Pensate Che cosa Incredibile Ha appena 16 anni Ed è stato appena Condannato A tre anni Sei mesi E dieci giorni Di reclusione Questo insomma Che sia da monito Per tutti i ragazzini Che così giovani Decidono di Iniziare queste attività Illegali E soprattutto Sbagliatissime E quindi Ha avuto Diciamo La penna Che Meritava Appunto Rispetto a quello Che ha fatto Perché Il benzinaio Ha avuto anche Parecchio spavento Vedendosi Arrivare questi due E poi I controlli Di polizia Pesaro Anche ieri Nel nostro Telegiornale Abbiamo Parlato Di 74 Kilogrammi Di polvere Pirica Che è stata Sequestrata In alcuni Negozi Del pesarese Cioè I cosiddetti Fuochi d'artificio I botti Che sono stati Utilizzati per Capodanno E venduti Chiaramente Prima Di questa data Non erano Tenuti In situazioni Diciamo Di sicurezza All'interno Dei negozi E quindi Sono stati Sequestrati E chiaramente Denunciati Due negozi Nel territorio E poi Conto la rovescia Per il giorno Del 20 Gennaio Come sapete Una giornata Importantissima Per la città Di Pesaro La giornata Inaugurale Di Pesaro Capitale della cultura 2024 L'evento Avrà un'ampia Copertura Il discorso Del presidente Mattarella Sarà dato in diretta Rai Alle 11.30 E sono 100 I giornalisti Accreditati Che arrivano Chiaramente Non solo dal locale Ma da tutte le parti D'Italia I dettagli Saranno divulgati Dal 15 gennaio Intanto Sappiamo Che la cerimonia Sarà condotta Da Paolo Bonolis Alla Vitre Friguarena Seguiranno concerti E spettacoli gratuiti Di Max Gazet Alle ore 17 Dell'orchestra Casa Dei Alle ore 20 E invece Sarà a pagamento La festa Che prevede Il DJ set Con vari artisti Tra cui Rosa Chemical Con il suo Once a year E i biglietti Sono su Vivaticket.com Quindi Per avere Anche voi Il vostro biglietto Andate su Vivaticket.com Oppure sul portale Di Pesaro Capitale Della cultura Pesaro 2024.it Per vedere Tutte le informazioni E poi Se avete voglia Oggi In questa pagina 6 C'è un racconto Insomma Di Solidea Che ha intervistato Alcuni cittadini E chiedendo Ma sapete Che cosa accade Il 20 Ma sapete Che cosa ci sarà Il 20 Ma sapete Che siamo Capitale della cultura E beh Vi scoprirete Insomma Delle risposte Assai originali E anche un po' No Simpatiche Perché qualcuno Non sapeva Assolutamente nulla Di che cosa Accadeva Il 20 Alla vitrefriguarena Invece I più informati Come voi Che guardate Rossini TV Sapete tutto Lo so Andiamo ancora avanti E Qui siamo A Santa Veneranda E si parla Di ambiente E si parla Di decine Di piante Tagliate In questo caso Sono pioppi Del bosco storico Di Santa Veneranda All'incrocio Con via Ponte Morotto C'era una grande Area ombreggiata Alberi alti Anche 20 metri Ma alcuni Piegati dal vento Negli anni Residenti appassionati Di trekking Raccontano Il paesaggio Che hanno visto Andando E ritornando In quelle zone A camminare Forse la pericolosità Molte avevano assunto Forme bellissime Proiettate in avanti Però Probabilmente Sono state abbattute Per la pericolosità E poi Abbiamo Ecco qui Un articolo Che riguarda La Onus Gulliver Quindi anche Andrea Boccanera Che ci sta guardando Il caso del Miralfiore Perché il Miralfiore È un parco Comunque Che è sicuro C'è adesso Questo nuovo Punto di ristoro Questa trattoria Questo luogo Dove si può fare Bar Pranzo Cena Gestito Da Utopia E quindi Arrivano Quattro telecamere Non sputate Sul parco È un fiore All'occhiale Un bellissimo parco Che appunto Anche Belloni Ha detto Non è Pericoloso Assolutamente Non bisogna avere paura Ad andarci Si stanno riqualificando La vicina stazione Anche nuovi percorsi Della bicipolitana Poi arriveranno Delle telecamere Altre telecamere In arrivo E quindi Per andare Sempre incontro Alla sicurezza Di questo bellissimo parco E farlo vivere Sempre di più Nella pagina 9 Invece Ci sono C'è una storia Anzi Delle storie Di ragazze Che hanno Vissuto Dei periodi Molto difficili Libera Dall'inferno Gli abusi L'alcol Poi arriva Un tingolo Che ti salva la vita Qui vedete Silvio Cattarina E qui La tingolo Questa struttura Che ospita Ragazze Che sono in difficoltà Che hanno bisogno Di un percorso Terapeutico Che hanno bisogno Di un recupero Qui siamo Sul Monte Ardizio E Sospendiamo Tutto E le ascoltiamo E questo è veramente Un bellissimo racconto Che oggi potete leggere A pagina 9 E poi Sorpresa Casa Tabanelli Arriva La Befana Dell'Asi L'autoclub Ha consegnato Generi alimentari Per dare agli ospiti Insomma Di Casa Tabanelli Che sono circa 12 Casa Tabanelli Insomma Una struttura Che è stata creata Dall'Aion's Club Di Pesaro E che Tuttora È supportata Sia dalla Caritas Che appunto Dall'Aion's Club E poi Tavuglia Ha il circolo Hauser Questa è una novità Assoluta Perché ci sono Dei volontari A tutto campo È stato nominato Anche un consiglio direttivo Ottavio Bertuccioli È il presidente Molte idee Su vari fronti Tra cui la gestione Di un piccolo bar A Belvedere Fogliense Quindi questa È una notizia Perché prima Non c'era Un riferimento Hauser Locale E allora Andiamo a vedere Che cosa hanno fatto A Roma Perché a Roma Lo staff Del Carnevale Ha presentato Questa prossima Grande edizione Dal Brudette All'intelligenza Artificiale Così il Carnevale Declina la sua Magia Presentato a Roma L'edizione 2024 14 carri 200 quintali Di dolciumi E Beatrice Venezi Come madrina Beatrice Venezi È la direttrice D'orchestra Che anche noi Abbiamo intervistato Proprio qui Nella nostra tv E poi ci sono Collaborazioni Con Trenitalia E Kinder Quindi insomma Veramente Collaborazioni Importantissime Qui vedete Tutto lo staff Gli organizzatori Il sindaco Il direttore artistici Di questo Nuovo Carnevale I carri Insieme alle maschere Sfileranno Lungo Viale Gramsci Nelle domeniche Del Carnevale A partire Dalle 15 E quindi Stiamo parlando Di giovedì grasso 8 febbraio E il 13 febbraio Quando ci sarà Il rogo Del pupo www.carnevaledifano.com Per avere Tutte le informazioni Su questa prossima edizione Ma anche noi Ve ne daremo Insomma In abbondanza Diciamo E siamo sempre a Fano In questo caso Si parla di sport Perché Fano Sogna l'Academy Con Gianni Rivera Lo vedete qui Nella foto Sorridente Auspici Baldarelli Missione a Roma Contatti con la moglie Del Golden Boy Un progetto ambizioso Che giova Tutto l'indotto Contatti anche con l'Alma Presi accordi verbali Con il presidente Creare Insomma Una grande Academy nazionale Con a capo Appunto Proprio Gianni Rivera Forse il più famoso Giocatore di calcio italiano La notizia è rimbalzata In città E insomma Vedremo Che cosa accadrà E che Se veramente Si riuscirà a fare Un'Academy Proprio a Fano E qui vediamo La bravata Di questa ragazzina Litiga con la madre Fugge di casa Ritrovata 15enne Dopo 19 ore La ragazzina La ragazzina ha preso La corriera per Urbino E ha trascorso La notte fuori E è stata rintracciata Subito dai carabinieri I carabinieri Si sono subito Prodigati alle ricerche Insomma Grazie Veramente Sempre Alle nostre forze Dell'ordine Che sono impeccabili E veramente Ci aiutano In tante situazioni Della nostra vita E per fortuna Insomma La ragazza È stata ritrovata È stata anche riportata Chiaramente a casa E poi Sapete che a Fano C'è una casa Segreta Per donne In fuga Dagli ex Donne che magari Fuggono Da un compagno Violento Donne che magari Non sanno dove andare In un periodo E nello stesso tempo Non possono più stare In una casa Che respira Appunto Violenza E maltrattamenti E allora Qui oggi Tiziana Petrelli Ci racconta Questa bellissima Storia È il progetto Dell'associazione Alba Rosa Presieduta Da Antonino Barrasso In collaborazione Con la Croce Rossa Stiamo allestendo Un appartamento Per difendere Le donne Vittime di violenza Sarà pronto A breve A volte Sono loro A svelare il rifugio Ma deve essere Un rifugio Che nessuno conosce Perché chiaramente Se fuggono Se fuggono Da 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 violenze Eccetera Dagli stalker Ad esempio Devono andare In un luogo Protetto Che non sia Conosciuto E quindi A Fano C'è un appartamento Segreto Che a breve Diventerà Un rifugio Per le donne Vittime Di violenza Domestica Alcune Cadono Nell'inganno Dell'ultimo Incontro Chiarificatore E come sempre Accade Purtroppo Ma Qui vedete Antonio Barrasso Lungotenente Dei Carabinieri Che ora In pensione Che ha avuto Questa bella idea Per aiutare Le donne Davvero In difficoltà E a proposito Di questo Argomento Per seguita Ventenne Conosciuta In chat E' stato Condannato Per stalking Un giovane Trapanese Arrivato a Fano Per lavoro Chiudeva in casa La ragazza Minacciandola Di morte Allora Vedete Che questi Casi Purtroppo Ce ne sono Di tantissimi Anche nel nostro Territorio Nella pagina 17 Dedicata A Fano E Valcesano Invece Vediamo Un'analisi Di quelli Che sono I piccoli Comuni Che vanno Al voto E allora Stiamo parlando Di Pergola San Lorenzo In campo Fratte Rosa Monte Porzio E San Costanzo A Pergola E' probabile La ricandidatura Della prima Cittadina In scadenza Quindi La Guidarelli E poi Più incerta La situazione Degli avversari Di Pergola Nel cuore E quindi Probabilmente Ecco Non si sa Quale la fazione opposta Chi candiderà Sempre per Pergola Ben diversa La situazione A San Lorenzo In campo Dove Nel 2019 Ci fu solo La lista Di Davide Dell'Onti A Fratte Rosa Che sono 900 Cittadini A meno Che non venga Provata la legge Per togliere I limiti di mandato Nei comuni Sotto i 5.000 Abitanti E introdurre Il terzo In quelli dai 5.001 E 15.000 Il sindaco Alessandro Avaltroni Dovrà dire Stop Essendo al termine Della sua Terza Consigliatura E poi c'è L'incertezza Regna sovrana Monte Porzio Col sindaco Giovanni Breccia Che sembra Voglia dire No Al terzo Mandato Insomma Ci sono Tanti movimenti Quest'anno Le elezioni Sono molto Molto Complicate Noi Chiaramente Tutti i martedì Vi diamo questo approfondimento Che si chiama Amministrando Dove potete Iniziare a conoscere I vari candidati Alle prossime elezioni Intanto è certo Che Luca Ser Filippi Viaggia verso L'incoronazione La corsa A sindaco A Fano Chiaramente Sabato La probabile Investitura Nel centro-sinistra Incontra Con i progressisti Nel nodo Delle primarie E poi Urbino Invece Basta Commissioni Con le elezioni Comunali Il gruppo Azione Universitaria Lista di minoranza Del consiglio Studentesco Dell'università Attacca Il presidente Giovanni Alvarez Sfrutta Il Prestigio Dell'incarico Per fare la propria Campagna elettorale Quindi vedete Che adesso Tutti Vengono un po' Presi di mira Perché pensano Vengono Magari Considerati Diciamo Un po' Arrivisti Perché in alcune situazioni Poi tirano Lo fanno anche Per eventuali Notorietà Per le elezioni Amministrative Ecco qui La storia Bellissima Che vi dicevo All'inizio Siamo a Borgogno Borgopace Un'attività Che apre Di questi tempi È davvero Una bella notizia Ma è anche Una grande impresa Complimenti A questa ragazza Imprenditrice Di 26 anni Vittoria Fraternali Che apre Proprio a Borgopace La sua parrucchieria E quindi Anzi Non c'era La parrucchiera A Borgopace Doveva andare fuori Invece adesso Grazie a lei C'è questo negozio Ed è veramente Bello Che una giovane Ragazza Ama Ama il suo territorio E proprio in questo territorio Apri Una attività Andiamo A Fermignano Perché qui Insomma Guarda Vorrei partire Proprio dall'immagine Di quello che era successo Vi ricordate Questa furia cieca Sarei morto Mi ha salvato Il letturbino Che a un certo punto E' arrivato Era la mattina presto Entrambi i ragazzi Stavano andando a lavoro Lui Insomma Stava per essere investito E' stato anche Investito E' preso Preso di mira Insomma Da Sapete Da Amartellate Da questo altro ragazzo E Questo era successo Appunto A Fermignano E allora Adesso andiamo a vedere Che cosa dice Simone Babbini Lo vedete qui Che lo scorso ottobre Aggredì Amartellate Il direttore del CONA Di Fermignano Si è difeso Davanti al giudice E lui dice Non ho cercato Di uccidere Bastianelli E Questa Nella sostanza E' la presa di posizione Di Babbini Che appunto Però Quella mattina Del 16 ottobre Ha aggredito Selvaggiamente Con una violenza Inaudita Matteo Bastianelli Che si è salvato Grazie all'intervento Di un netturbino La vicenda avvenne All'alba Di un giorno qualunque Quando Babbini Si scagliò Con un martello Su Matteo Bastianelli Che gli aveva chiesto Di rallentare con l'auto Mentre stava Attraversando la strada L'uomo A bordo della sua macchina Era quindi tornato indietro Scendendo dal veicolo E Chissà Perché Non si sa Insomma Si è sfogato Su questo Direttore Appunto Del CONA Di Fermignano Fortunatamente Veniva Rintracciato E fermato Nel tardo pomeriggio Ieri mattina Babbini È stato interrogato Dal giudice Dalle indagini Preliminali Del tribunale Di Urbino E ha ribadito Non ho cercato Di uccidere Bastianelli Però L'interrogatorio È stato molto positivo E si ipotizza L'uscita dal carcere Vediamo che cosa accadrà Perché insomma Questi gesti così violenti Fanno veramente Molta paura Pensare che uno dice Alto Non correre con la macchina Rallenta E poi questa persona Torna indietro con l'auto Scende Ci prende a martellate E ci fa Quello che ha fatto Insomma È veramente Terrificante Pensare che possa Accadere Però a quanto pare Accade Ed ora andiamo Al Corriere Adriatico Sì Mancano dieci minuti Alle otto Ci siamo quasi amici Poi dopo si va al lavoro Si inizia la giornata E allora anche nel Corriere Adriatico Oggi Si parte Con il cronoprogramma Dell'ente di Via Gramsci La provincia Conta duecento dipendenti Servono Tremilaquattrocento Metri quadrati Al posto degli attuali Ottomila Quindi si va Diciamo a risparmiare E restringere anche le spese Il quindici gennaio Sappiamo che c'è Quest'incontro In cui si deciderà E soprattutto si parlerà Di questa trattativa Che è per Due milioni e ottocento Mila euro E in prospettiva Appunto Il Palazzo Vecchio Resta a disposizione Come abbiamo visto Deliceo Mamiani Servono Tre milaquattrocento Metri quadri Via Rossini Ideale per noi Perché è un posto Comunque centrale Nevralgico Ed è contenuto Rispetto alla grande Struttura della provincia In cui I duecentodipendenti Lavorano oggi E poi Abbiamo visto Insomma I commercianti Lasciano Il San Domenico È solo una rivederci Perché poi ci ritorneranno Da domani Il mercato Delle erbe È in via Da gavardini E ritornerà Poi questo mercato Nel San Domenico A lavori finiti Quando tutto verrà Ristrutturato E appunto Ripristinato Niente paura Dice Francesca Frenquellucci La prossima settimana Ci saranno Una conferenza stampa E subito dopo Il taglio del nastro Del nuovo mercato Delle erbe Quando gli operatori Saranno pronti E l'allestimento Completato E arrivano Gli Echi Rossiniani Degli Amici della Lirica Un ciclo di conferenze E un incontro In omaggio Alla capitale Della cultura Stiamo parlando Di Echi Rossiniani Tra musica e parola Il ciclo di incontri Proposto Da il circolo Amici della Lirica Rossini In onore Di questo anno 2024 Da 40 anni Il circolo Della Lirica Opera Alacremente Per divulgare Promuovere La bellezza E il fascino Della musica Dell'arte I primi due appuntamenti Sono previsti Per mercoledì 24 gennaio E mercoledì 21 febbraio A Palazzo Montani Antaldi Ma torneremo Anche noi A ricordarvi Questo appuntamento E qui vediamo Rinchiuse Minacciata Con il taglierino Riprendiamo Anche la notizia Che abbiamo visto L'ex fidanzato Condannato Per stalking Un anno Al 22enne Che già Aveva incassato Una pena Quattro anni Per aver abusato Di un'altra ragazzina Insomma Vedete Che queste persone Poi Rifanno Continuano Nella loro Atti di delinquenza E quindi Per fortuna Adesso L'uomo È stato Fermato E arrestato E poi A Petriano Ricece Accordo Tra Regione E la società Aurora Che ha Ritirato Il ricorso Al Tar Formulate Richieste Più moderate Sull'interrogazione documentale Per il progetto Della maxi Di scarica E anche qui Nelle pagine di Fano Non si può non parlare Del carnevale Battesimo Turistico All'Enit Evento Per spettatori Internazionali La Kermesse È stata presentata A Roma E appunto Beatrice Venezzi Sarà La madrina Il ricordo Di Tomassini Che contribuì A fondarla Palinsesto Ancora attuale L'indimenticabile Telefano Nasceva 50 anni fa Pensate Ecco qui La storia Di una Di una Ecco Lo studio di Telefano Nel 1974 Fu una delle prime Emittenti Italiane Vedete un po' E poi Andiamo Sempre a Fano Nuova scuola media Un utile Risorsa aggiuntiva La soddisfazione Dell'assessore Mascarin Integrazione proposta Con i dirigenti Per questo Dimensionamento Non sono poche Le novità Che riguardano La città di Fano Emesse tramite Il decreto Dell'Ufficio Scolastico Per le Marche Come sapete Nell'ambito Del piano Di dimensionamento Della rete Scolastica Regionale Per l'anno 2024 E 2025 E poi Fossombrone Grande contenitore Di eventi Il progetto Del comune Che ha rinnovato Il patto Con Confcommercio Per l'itinerario Della bellezza E poi ci sono notizie Anche che ci parlano Di Valentino Rossi Perché Valentino Chiama Alla 100 km Big Della moto Attesi al Ranch Domani e sabato A Tavuglia Torna la gara A metà Tra festa E spettacolo Ci sarà anche Pecco Bagnaia Questa 100 km Dei campioni È un evento Che organizza sempre Valentino Rossi Lo ha annunciato Anche su Instagram Ci saranno tanti Persona Franco Morbidelli Luca Marini Marco Bezzecchi Pedro Acosta Tantissimi Piloti Che si contenderanno Questa gara Ed ora Andiamo Allo sport Col paccio Della Viz Lo abbiamo visto Anche nella prima pagina Arriva Già aggregato Alla squadra Ha firmato Un contratto Biennale E intanto C'è la trasferta A Olbia Una trentina Di tifosi Sono pronti Per Olbia Quindi al match Delle 16-15 Valido per la 21esima giornata Del campionato Di Serie C Che si sterrà Appunto Domenica E poi La VL Sceglie Sacchetti Finita Questa pausa Di riflessione La società Ieri mattina Ha ufficializzato L'esonero Di Buscaglia L'ex Citi Azzurro Nel pomeriggio Ha diretto anche Il suo primo allenamento Insieme alla squadra E qui vediamo Anche la carriera Di questo nuovo allenatore Romeo Sacchetti Detto Meo E' nato ad Altamura Nel 1953 E qui vedete Quante vittorie Ha disputato 15 campionati In A1 Argento All'Olimpiadi di Mosca Nel 1980 Oro Agli europei di Francia Argento Ai giochi del Mediterraneo Bronzo Siamo sempre Negli anni 80 Poi D'allenatore Uno scudetto Tre Coppa Italia Una Supercoppa italiana E quindi insomma Speriamo che veramente Possa cambiare le sorti Della squadra Intanto Ora ci si attende Una reazione Della squadra A Napoli E quindi dopo queste ultime sconfitte A Napoli Fuori casa Bisogna fare Assolutamente Molto bene Vediamo anche Le altre notizie E chiaramente Qui vedete L'immagine Di Obi Questo nuovo acquisto Della vis Pesaro Un big per conquistare La permanenza In C Chiaramente mancano Poche partite Alla fine del campionato Quindi bisogna assolutamente Mettersi ai ripari E allora Buscaglia Anche qui per il basket Esonerato Squadra a sacchetti La VL cerca Con Meo La sterzata Salvezza L'ex CT Della nazionale Chiamato a risolvere Una situazione Complicata Ieri ha diretto Il primo allenamento Alla palestra Nord E Pesaro Tra l'altro Per quanto riguarda Il mercato Sai che sapete Che cerchiamo Insomma Un americano E allora Pesaro fa un tentativo Con Barry Brown Jr Ci ha provato Ad alzare il suo Tiro Dopo l'arrivo Di Sacchetti Mettendosi in contatto Con Venezia Per provare A rilevare Il contratto Di Barry Brown Jr E vediamo Anche qui Come andrà Il meteo Anche qui Ci racconta Una giornata Purtroppo Anche quella di oggi Nuvolosa Non sono previste Piogge Nella provincia Di Pesaro E Urbino Ma tanta nuvolosità Temperature Piuttosto rigide Che toccano Insomma Anche gli zero gradi Ad esempio Nel territorio Di Urbino Allora Regia Vediamo Che cosa Ci apparecchia Diciamo Il menù Di Rossini In tv E allora Intanto vi ricordiamo Che insieme a Canestro Il nostro forma Dedicato alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Torna la prossima settimana Quindi questa sera Che è giovedì Non ci sarà la puntata Ma vi aspettiamo La prossima settimana E poi il nostro telegiornale 19.30 Con tutte le sue repliche Collegatevi con noi Siamo in diretta Sul canale 80 Oppure sulla nostra pagina Facebook Alle 19.30 Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.